Allora ascolta, chi premia? La Rossana con le cuffie d'oro al bravissimo Beppe, prego, grazie Rossana Non abbiamo pagato Parenzo perché ci ha fatto pagare l'anno scorso 800 euro di consumazioni quindi l'abbiamo lasciato a casa perché è terribile. Un applauso anche al buon Parenzo Cosa vuoi dire? Non voglio dire niente, voglio dire una cosa, mia madre, non voglio dedicare questa cosa a mia madre però la sera mi chiamo ogni tanto verso le 9 e mezza e mi sono fatto un mazzo così, ti ho fatto studiare c'è l'università e poi mi andi a fare in culo la gente alla radio Tua madre non è contenta di te Allora gli ho detto senti, ho vinto le cuffie d'oro Metti 105 dalle 2 in fondo Bravo Mi ha rivalutato Grande Giuseppe, bravissimo, un applauso a Giuseppe Ci vuole un po' di musica a Charlie Sì, io direi che un po' di musica ci vuole Sì, io direi che un po' di musica ci vuole